Una festa particolarmente sentita a quelli in onore di Maria Santissima della strada in Giarre che vivrà il suo clou domenica 12 maggio e che vede una grande devozione mariana e una grande partecipazione di fedeli. Nell'ambito del programma dei festeggiamenti sabato prossimo 4 maggio all'evento in parrocchia si terrà il convegno dal titolo Il ruolo della donna oggi, conquiste e prospettive per il futuro. I lavori sono allestiti in collaborazione con il comune di Giarre e con l'associazione culturale Nuove Idee. Interverranno addette ai lavori che disserteranno sui traguardi raggiunti dalle donne e sulle sfide che le attendono nel prossimo futuro. Si aprono quest'anno i festeggiamenti della Madonna della strada con degli appuntamenti importanti per Giarre e tutto l'Interland. Giorno 4 aveva un evento culturale dedicato alla donna e proprio partendo dalla Vergine Maria. Infatti il titolo ci parla del canto del paradiso di Dante, Donna sei tanto grande. Vivremo dei momenti salienti della festa come l'apertura dei festeggiamenti, la svelata il venerdì, giorno 10 della Madonna e poi la festa vera e propria, il 12 e la festa esterna che vedrà tanti e tante persone coinvolte. Sin da adesso vorrei ringraziare tutti per la partecipazione, anche la commissione dei festeggiamenti, capitanata da Salvoferlito e tutti coloro che vorranno omaggiare la Vergine Santissima. Ecco, quest'anno la festa vuole assumere qualcosa di importante, ovvero riscoperta del santuario, non soltanto cittadino ma a livello diocesano. Infatti vedremo tanti pellegrinaggi che nel mese di maggio giungeranno qui nel nostro santuario. Maria è quella donna che accoglie a braccia aperte e che, così come viene rappresentata nel quadro antico e anche nella statua, ci dona il suo figlio Gesù, unica via da seguire. Allora viviamo questi festeggiamenti con uno spirito pieno di fede e soprattutto di devozione.